Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con la telecronica del pandita quest'oggi siamo a Nitro, quindi territorio WCW, puntata del 2000 e li vediamo anche nella versione che sicuramente conosciamo di più ovvero la versione del Corvo con la faccia dipinta di bianco e nero Sting, l'icona del wrestling, chi fa il suo ingresso nel ring per affrontare in questo incontro un lottatore che abbiamo conosciuto a SmackDown ovvero Billy Kidman, quindi un scontro fra due lottatori dal peso specifico nettamente differente perché se Billy Kidman è stato un grande peso leggero, un grande flyer anche se a me questo termine non è che piace più di tanto dall'altra parte abbiamo un'icona vera e propria del wrestling ovvero Sting che va subito all'attacco su Billy Kidman va dritto per dritto, non vuole sapere niente qui in termini di back suplex con Billy Kidman che riesce a rovesciare tutto e anzi va con un bulldog e anzi fa anche il verso ad Hulk Hogan perché all'epoca Billy Kidman era il principale rivale di Hulk Hogan e anzi i due si sarebbero affrontati a Great American Bash con Billy Kidman che adesso viene sbattuto sulla rampa di ingresso ring con un hip toss veramente molto molto dura e qui attenzione Sting continua la sua offensiva su Billy Kidman la lotta si sposta sull'epron e poi dedicatamente Sting riporta a Billy Kidman all'interno del quadrato e poi attenzione si lancia mamma mia l'agilità di Sting è un qualcosa di eccezionale ha effettuato una corsa e un volo e una crossline a volo veramente tutto straordinario questo è perciò Sting è un'icona perché è un luttatore veramente completissimo e attenzione però Billy Kidman non è uno scherzo e all'improvviso va con una DDT al centro del ring Billy Kidman accompagnato da quella che poi diventerà la sua moglie ovvero Tori Wilson e qui uno splash a voto da parte di Billy Kidman pensavo già potesse andare per lo shooting star press così non è qui attenzione di sweep all'angolo Sting si lancia su Billy Kidman con lo Sting splash e poi attenzione Scorpion Deathlock la mossa finale di Sting però c'è l'arbitro che viene distratto dalle curve di Tori Wilson ma attenzione interviene colui che era il libale di Sting in quel periodo ovvero Vampiro che attacca le spalle con una cannetta del gas e Billy Kidman ovviamente ne approfitta va per lo schieramento e c'è il conto di tre incredibile Billy Kidman batte Sting anche se in maniera assolutamente scorretta e Billy Kidman secondo me dovrà offrire una cena a Vampiro per questa vittoria straordinaria e qui ovviamente c'è l'attacco combo da parte di Vampiro e Billy Kidman e i danni di Sting attenzione arriva l'immortale Hulk Hogan ovviamente in aiuto del suo amico rivale Sting ma soprattutto per attaccare Billy Kidman e Vampiro eccolo qua l'immortale Hulk Hogan che va con il papagno micidiale su Vampiro e poi ancora su Billy Kidman e qui attenzione Hulk Hogan ma attenzione arriva Eric Bischoff che attacca le spalle Hulk Hogan con una sediata ma Hulk Hogan non ha subito niente non ha sentito un cazzo Hulk Hogan va attaccare Eric Bischoff poi gli strappa via la sedia e attenzione però c'è Ernest de Catmiller il se non sbagli il commissiere arriva anche un membro degli Harris Brothers ma non so se Don o è quell'altro non mi ricordo mi si chiama l'altro Harris Brothers per qui c'è un assalto un 5 contro 2 o un 4 contro 2 se vogliamo escludere Eric Bischoff e qui attenzione entra in gioco anche un bidone della spazzatura e questa è anche la WCW in quel periodo Grandi risse molto confusionare qui c'è l'attacco combinato ai danni di Hulk Hogan qui attenzione Vampiro mette il gasolio la benzina all'interno del bidone con Eric Bischoff che ha in mano la maglietta strappata di Hulk Hogan e qui Vampiro vuole dare fuoco all'interno del bidone il bidone prende fuoco e probabilmente Eric Bischoff così è mette la maglietta di Hulk Hogan e la fa bruciare all'interno del cassonetto non una bella serata questa per Sting e Hulk Hogan che non solo perdono la battaglia ma probabilmente perdono anche la guerra visto l'attacco subito da parte qui attenzione che succede arriva la cavalleria arrivano i Kronik arrivano i Kronik Brian Clark e Bray Adams e vanno ad attaccare il membro degli Alice Brothers e qui permettono la fuga degli avversari di Hogan e di Sting ma purtroppo il dato è tratto il peggio è fatto bene su queste immagini io vi ringrazio per aver visto quest'altro video vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre qui su YouTube e vi do appuntamento e vi do appuntamento